Come si può amministrare il comune senza un progetto economico? Riteniamo che la prossima amministrazione comunale debba avere tra i suoi compiti anche quello di concorrere alla definizione della politica economica del territorio, non lasciandosi sopraffare dalle logiche di mercato. Noi della lista Terra puntiamo su un'economia autocentrata, vogliamo promuovere filiere corte e utilizzo delle risorse naturali, energetiche e minerali dell'ambiente circostante. E' infatti di vitale importanza favorire l'economia del territorio, aiutando gli attori deboli ad emergere, offrendo opportunità a quelle attività che migliorano il territorio e che non lo percepiscono come mera piattaforma da cui estrarre valore. Insieme alle rappresentanze cittadine dobbiamo decidere cosa, come, quanto, dove meglio produrre per creare valore aggiunto territoriale, favorendo così la crescita dell'autonomia della società locale come soggetto collettivo e complesso. I primi passi, in questo senso, avranno per oggetto il risparmio energetico. Vogliamo dare avvio alle procedure per l'autoproduzione energetica. E' una sfida che muove da una duplice necessità, sostenibilità ambientale e risparmio. L'obiettivo è realizzare e incentivare la costituzione di comunità energetiche finalizzate all'autoconsumo collettivo. Si tratta di forme di aggregazione sociale ed economica che affrontano il problema dell'autosussistenza energetica, risparmiando su bolletta e tendenzialmente liberandosi dai monopolisti dell'energia. Le comunità energetiche sono delle unioni di cittadini che producono, immagazzinano e consumano l'energia rinnovabile. Le comunità energetiche sono di fatto soggetti autonomi sotto controllo degli stessi soci utenti, che abitano gli edifici su cui verranno installati gli impianti di produzione di energia solare. Altro piccolo ma significativo passo, suscettibile di sviluppi lavorativi ed economici, è il mercato delle autoproduzioni alimentari, artigianali e del riuso. Si tratta di estendere l'esperienza del mercato contadino con l'approntamento di un sito dedicato ai produttori locali di igiene inalimentari, di artigianato e del riuso. Ma non si tratta solo di questo. Il mercato delle autoproduzioni a cui pensiamo è una sorta di grande gruppo di acquisto solidale, a guida municipale. In questo senso pensiamo pure alla trasformazione dell'istituzione del gemellaggio. In sostanza si tratta di trasformare il gemellaggio da forma di legame simbolico con altre realtà territoriali a forme di legame economico. In questo senso stiamo lavorando ad uno specifico progetto.